Ciao a tutti ragazzi, siamo con Misha Markulet, anche quest'oggi al tavolo finale. Le impressioni? Le impressioni? Ho giocato male. Mi sono promesso di gamblarlo perché una volta non ho chiamato il gruppo. Una volta con 4-5, vabbè, però per le potorsi stava il gol. Una volta con assi 10, molto probabilmente ero avanti, non so ancora le carte. Ho un presentimento che almeno un po' e me lo toccavo. Poi lui è diventato lungo il tavolo. Io mi sono accorciata. Ho perso una mano Jack-Jack, ho trovato le palette e io Jack-Jack è uscito a vasso. L'ultima mano, quella decisiva, è proprio un errore tecnico di lettura dell'avversario. Facevo la coppia ma non lo facevo così forte, aveva la coppia d'assi. Con War Jack, donna-donna, io ho mandato Jack-Jack e 10 e mi ha chiamato, senza paura che avesse la domanda. Ascolta, comunque, tre tavoli finali in due settimane. Guarda, è inaspettato. Non ci possiamo lamentare. No, no, assolutamente. Poi per come è andato sto torneo questi giorni, guarda, mi faccio i salti di gioia. Va bene, ti ringraziamo a noi e tutti gli utenti di Poker Italia Web, ci vediamo alla prossima, a sto punto il prossimo tavolo finale. Speriamo. Ciao. Ciao.